zombie apocalypse bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro primo non lo sa, non lo sa, al nostro primo contest brava, al nostro primo contest innanzitutto amore mio dobbiamo ringraziare, grazie per essermi iscritti così non mi guardare, guarda loro, grazie ragazzi per esservi iscritti davvero in tantissimi abbiamo, avete raggiunto ragazzi il traguardo necessario per prendere la possibilità di vincere quanti? 10 euro non è 10 euro, sì è 10 euro, non è che vi do 10 euro per vincere mille V-Bucks ragazzi da utilizzare come meglio credete in Fortnite vi ricordo ragazzi mille V-Bucks vi possono essere utili sia per prendere il pass battaglia e quindi sbloccare una fucilata di oggetti fighissimi infiniti oltre che avere la possibilità di prendere più punti esperienza mentre giocate o altrimenti potete tenerli per acquistare degli oggetti nel nel shop nel shop, esatto esatto però prenderanno il pass battaglia perché hanno delle cose tiglissime porca miseria, hai ragione, il pass battaglia è proprio io l'ho preso, sono contentissimo di averlo preso ma visto che anche altri ragazzi che giocano con te l'hanno preso sì, anche perché ragazzi se giocate in squadra se giocate con chi ha il pass battaglia tutti voi prendete ancora più punti esperienza ragazzi si arriva a prendere fino al 200% di punti esperienza extra comunque ragazzi cosa dovete fare, com'è che funziona e mi dicono xyuder, pami, ok? ci hai guardato il video? come cacchio li prendiamo questi pass battaglia? diglielo come si fa? dovete mettere un bel like al video e commentare sotto il video con scritto VBAC mi raccomando ragazzi dovete scrivere VBAC tutto attaccato oppure V-BAC non è importante ragazzi voi commentatelo e poi ci sarà un'estrazione esatto ragazzi questa sera quindi dalle 21 quando andremo in live prenderemo una parte di live dove andremo ad estrarre il vincitore poi ci accorderemo ovviamente e lo diremo in live certo lo vedremo in live ragazzi tutto in tempo reale questo è quello che vi avevo promesso ragazzi tutta la settimana io le promesse le mantengo e anzi amore mio vi lancio pure un altro contest ragazzi brava un altro contest ragazzi se entro domenica 1 aprile arriviamo a 9000 iscritti però è la domenica di Pasqua aspetta c'è Pasqua di mezzo se entro domenica 1 aprile arriviamo a 9000 iscritti ragazzi lo Xuder e la Pami vi regalano un altro V-BAC beh ragazzi direi che per questo video è tutto mi raccomando commentate qua sotto mettete un bel like iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella noi ragazzi ci vediamo presto ciao ciao On and on we'll go